Con mia madre siamo arrivati nell'area 5 nell'83. Se vuol dire che sono cresciuto insieme a Torbella Monaca, allora non c'era nessuno. Mi ricordo tutti questi palazzoni tutti illuminati e strade piene di luci, tutto pulito, tutto nuovo. Allora ce li avevo gli amici, e pure una comitiva. Mi ricordo c'è stata Rebecca, d'acciso quanto era bella Rebecca, lavorava al Cursal, a Ostia, è morta in un incidente stradale a San Basilio. Poi c'è stata il Palletta, cazzo stava matto scocciato il Palletta, peggio di te. Gli hanno sparato le guardie mentre stava a fare una rapina al tabaccaio. E' bello che gli servivano i soldi che portava la donna fuori a cena. Quel giorno faceva pure 18 anni. Poi c'è stata Mimmo. Dicono che hanno dato fuoco ai fascisti. Ma io non c'ho mai creduto a sta roba. Mai. Quella sera poi che hanno sparato a tuo padre pensavo fosse arrivato pure il turno mio. Sì. È durato un secondo. Mi hanno sparato? È niente. Tutto buio, tutto spento, era tutto finito. E invece no. Io non so che mi è successo. Però mi sento bene. Mi sento bene perché Perché adesso ci si dè. Perché ci si dè.